e bella a tutti ragazzi ben ritrovati nel mio canale sono giuseppe carlini e vi volevo questo sembra un altro avviso sempre lo stesso giorno che mi dice youtube che non posso vedere i vostri commenti del video precedente quello prima che ho fatto che vi dicevo dei graffi e quant'altro non mi fa vedere perché mi dice youtube studio che ho disattivato i commenti l'altra volta mi è successo la stessa cosa però dopo un po di tempo mi ci sono riattivati e ho iniziato a vederli quindi se non vi rispondo per questa cosa quindi non vi dispiacete e quando ho risolto questa cosa vi risponderò io adesso faccio diciamo un po di video con le foto che ho sulla galleria sempre quei video con le scritte o so che è un po una noia però non posso fare niente o il computer ecco questo ragazzi chi ha il mio numero e insomma chi ha il mio numero e a farming 2019 per il pc mi può dire come fare come fare i video come fare i video dal pc non dal telefono c'è che io mentre gioco si vede la mia faccia e anche e anche quella di c'è anche il gioco come gioco e quant'altro e anche come posso accedere al mio canale però con il computer io vi lascio vi lascio e mi raccomando vi porterò un po di video anche che andiamo a pesca un po di cose qua io faccio un po di tutto ci rivediamo al prossimo video lasciate la che commentare e iscrivetevi bella